bellissima se volete fare domande se volete fare domande se volete fare domande se volete fare domande se avessi ascoltato da te la storia a conesto modo l'avresti chiesto un po' semelio di quanto non abbia fatto complimenti volete fare domande? come no? bravo bravo questa è solo la cosa che vi ho raccontato è solo il primo capitolo cioè la nascita e quindi prima della nascita parliamo del papà e della mamma è così in effetti noi pensiamo di fare almeno una dozzina dodici pubblicazioni uno al mese però mi sa che andremo anche al di là forse ne saranno quattordici quindici dipende poi della bontà di chi ci sta riprendendo per l'anno prossimo in effetti Vittorio è un uomo paziente sì abbiamo presentato la famiglia dove Federico II suo papà la mamma Bianca Lancia adesso che è nato d'ora in poi parleremo sia del papà il grande lo stupore del mondo Federico II di Sveglia e sia di Bianca Lancia dei marchesi Lancia Piemontesi e poi ovviamente andremo a dire qualcosa di più in modo più particolareggiato quella che è la storia del nostro affondatore e parleremo soprattutto della lotta che purtroppo ha dovuto affrontare contro la chiesa e quindi la fondazione di Manfredoni fino a quando poi nella battaglia di Benevento purtroppo è stato ucciso dai nemici sia interni cioè nella propria corte che lo hanno tradito e sia dell'esterno dimmi dimmi per Manfredi è morto in guerra è morto in guerra sì per noi sì ecco bravo anche per noi venire il Manfredi adesso anticipo qualcosa quando ha fondato Manfredoni la propria volta che è venuto ma non a Manfredoni perché non c'era si è formato a Sipondo Sipondo era stata distrutta sia dal maremoto sia dal terremoto ma soprattutto perché un re cattivo detto appunto Guglielmo cattivo il malo l'aveva distrutta è venuto per vedere un po' le condizioni del porto che trafficava molto con la costa al di là dell'Adriatio Vingoslavia Croazia Albania e il porto era rovinato insabbiato chiuso non c'era più niente c'era solo la malaria le zanzare che portavano a malaria poi si è detto qua non la possiamo costruire un'altra volta la costruiamo più in là dove sta adesso dove siamo ora e l'ha chiamata non Manfredonia ma Nuova Sipondo Nuova Sipondo però i suoi abitanti che erano così affezionati a Manfredi fin dal primo giorno hanno detto no noi siamo figli di Manfredi quindi saremo Manfredoniani e la città si chiama Manfredonia fino a quando poi con le vicende che si sono succedute purtroppo non è cambiata un po' la storia degli Hohenstaufen Hohenstaufen si si tedesco dimmi aspetta esiste veramente ma se la dico qualche parente tedesco per tanto il papà la dinastia era tedesca perché il papà era nato a Iesi Iesi macerata ah macerata si hai ragione scusa è chiaro quindi si si scusate quindi di origine anche se è nato sul suolo italiano no no c'è prima il tuo compagno dimmi cosa vuole mi chiedi no no sono va beh vai ma non si dovrà chiamare Bianca che dice Bianca no ma è maschetta Bianca è il cognome Bianca è la mamma non è solo la gelateria Bianca Lancia era la mamma di Romanfredo Lancia Lancia è il cognome si brava Lancia che poi è quella che fanno le macchine la dinastia che oggi era una di donna dei marchesi Lancia bianca è il nome Lancia è il cognome la mamma era una marchesa che ha sposato che poi ha sposato però poi si sono sposati Federico secondo e Bianca Lancia si sono sposati sapete dove e che fine ha fatto scusate Isabella di Brienne è morto abbiamo eliminato il problema dalla radice proprio sapete dove si sono sposati Federico no non c'era no non c'era secondo all'un c'era vicino e poi lo dirò anche un po' meno basta altrimenti mi confondo di anticipo troppo i prossimi capitoli poi la saboma di Bianca che rappresenta un po' il che ha avuto questa donna perché è stata in fine condotta no signora no 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 la era Filippa di Manfredi che sposò Filippo Manfredi Maletta coetaneo di Manfredi bravo prosatore bravo come dire compositore ma pessimo amministratore tanto che lo tradì prese 500 onci d'oro da Manfredi alla vigilia del battaglio di Beneveglio per ascoltare e storia vado a vedere anche su internet per assoldare delle truppe mercenari e corse a inginocchiarsi ai piedi di Clemente IV di origine francese Clemente IV che era già stato notaio soldato eccetera eccetera ha pesato la persona e non si è fidato perché ha detto ha tradito una volta tradirà ancora però poi si è nobilitato con una una missione in Sicilia parlo di Manfredi Maretta poi c'è tutta una diatriba sulla proprietà dei terreni se quella di Monte Sant'Angelo o di Manfredoni era della Corona il terreno il conte Maretta Manfredi Maretta era l'amministratore della montagna quindi di queste terre non era il proprietario Biancalangelo non era mai stata prigioniera è morta prima poi è morto Federico è morta molto tempo prima poi lo vedrà è morta non si sa di cosa fosse malata Federico poi è morto nel 1250 a Castelfiorentino non si sa qualcuno dice perché l'abbiamo ucciso il figlio ma non è così assolutamente era malata già da mesi i capelli rossi furvi bellissimi erano diventati storici e viene descritto molto bene da alcuni storiografi che hanno grande credito alla corte della storia non andiamo a i bambini si possono andare a noi comunque poi si sa una documentazione quindi oggi basta avete ragione quando avete chiesto sembra la storia di Federico II è vero si dice che abbiamo fatto un lungo preambolo sulla vita di Manfredi prima che nascesse va bene allora ancora grazie noi possiamo tornare in classe a posto grazie